calendari dell'avvento di coppia torna alla rubrica dei calendari dell'avvento e tornano i calendari lego a un lego city ispirato alla serie lego city adventure è lego friends guarda che c'è ma c'è anche la mia preferita quest'anno abbiamo emma ma anche sorprese dalla bottega dei giocatori di papà natale c'è proprio anche anche gli elfi certo che sì c'è anche l'elfo ragazzi qui possiamo sbirciare un po di sorpresine qui possiamo vedere i personaggi della serie tv c'è anche il pompiere io adoro il pompiere una torta una torta ma soprattutto arrivano eccole qui sfiliamo il tutto e iniziamo dal giorno numero uno vi raccomando di non aprire di fianco come abbiamo fatto noi sennò si svelano le sorprese ecco il calendario dal numero uno e poi anche la base dove mettere le sorprese mentre qui abbiamo la città allora cercate 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 provato bene la barca io adoro le sorpresine qua abbiamo le istruzioni perché sono spucciosette piccole e super carine giro giro di emma anche la spazzola è già pronta la mamma arriva in porto ma come fanno a fare cose così piccole che sembrano così vere e qua c'è anche la gru no non ci credo si alza veramente incredibile forza amati che vengo da te brava tira fuori io ho trovato duke hai trovato duke primo personaggio qui cosa avete trovato è un tavolino con una tazza di cioccolata calda le pene per gli appunti ma che carine che sono è anche rosa senza occhiali o con gli occhiali io direi con gli occhiali si guarda ho anche la sua mitica capigliatura ciuffettosa ecco qua quest'anno metteremo in riga tutti i pelush con il mio orsetto questa è la nostra scrivania è super pucciosa ci sono anche i biscottini no ho trovato l'amministrazione della polizia benissimo stavi mangiando il biscotto eh duke ehm si è un caminetto il caminetto di natale guardate i miei stivali per andare sulla neve eh mi stupirebbero veramente ok prendi pure caro vogliamo mettere dentro le cose di natale per la becana no hai una calza si che bella quindi lei si appende dove sei al caminetto c'è anche la ghirlanda vengo a scaldarmi ah che bene adoro il focherello ecco qua vicino all'heliporto sempre pronti in azione uiu 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 numero 4 numero 4 non c'è più vati dove sei ecco la fuori 4 fuori 4 un brezzel un brezzel adoro i brezzel tu dove hai trovato cucettino non te lo dico non te lo dico vengo a vedere no l'avevo visto è giallo è un camion il mistero di natale mamma mamma riuscirà il triceto a mangiarsi un brezzel gigante secondo me si anche secondo me pian pianino finito come hai fatto incredibile portatelo via col camion adesso perché è diventato un gigante baby arrivo al camion a prendere il triceto? no cosa vai a prendere? è il brezzel ha preso il brezzel il golosone lo porto alla festa di natale 5 mi sei ingassato ha liberato quel divino io ho trovato ha giusto a tutto che non è giusto a niente ma anche ho trovato la cassetta delle lettere fondament fai merenda? ah golosona posso l'ultimo? grazie sono gentilissimi sarà lo spirito a Natale tu l'hai trovato? la giusta a tutto che non è giusta a un bel niente è vero una volta ha messo il razzo a una limousine un'ottima idea credo che farà qualcosa di simile c'è anche la dinamite so io come far partire la vita di Babbo Natale quest'anno al razzo pum così avete qualche letterina? si ho tante è una lunga letterina eccola qua e cos'hai Liana? la meretta continua ho capito perché mi ha lasciato uno spicchio perché ce ne aveva altri interi golosona M non è una ruota è un mandarino no è una palla guarda calcio mandarino no è un mandarino da mangiare guarda cosa è successo qui? è entrata la letterina è pronta boom boom che cos'è? una mini costruzione le adoro un fast food siamo al negozio come non puoi farmi vedere? va bene l'elfo l'elfo di Natale l'elfo attenzione tutti vogliono l'elfo se a Babbo Natale serve un mignolo quest'anno lo posso aiutare giro giro sto cercando un pochettino a cui mettere il fiocco ma è carinissimo al mandarino al mandarino sì secondo me ci sta occhio eh attenzione ragazzi avete visto? no ma quanto cucciacetto è? Matti guarda oh carino benzina? io io ma quello allora è la stazione tutti al distributore adesso posso andare alla festa e la prima settimana è andata e rivediamo che bello è l'arco di Natale quando ci passi sotto c'è il vischio puoi darti un bacino c'è anche la chirlanda bella è il momento dell'elicottero? no che cos'è con l'elica? scusate ma perché hai coperto tutto? vuol che veda ma no così non vedo se ho andato in un elicottero è una overcraft cos'è? è quella cosa che vola sopra l'aria così no cioè che usa l'aria per volare sopra la terra no una moto da neve no una moto slitta con l'elica così si e frulla tutta la neve l'ho inventata io è stupenda anche lì ci puoi mettere la dinamite è un elicottero allora non ho scherzetto fai un giro giro che bello è piccolino è bucciocetto ed è della polizia otto la prima settimana è fatta seconda la scrivania qui l'elfo ci fa le paperelle secondo me giusto col martello non guardate ragazzi voi avete un sospetto io un sospetto sai come faccio a scoprirlo? ehm semplice non guardo te ma guardo la casella guarda che carina la paperella che poi è attaccata al carrettino per cui la puoi tirare è vero scusate vado più vicino possibile bucocorino ma era veramente un albero di natale portato in città addirittura dalla nave poi dal camion nella piazza principale sapete cosa c'è? un albero di natale bravo nove vai Ale cosa c'è? un aeroplanino telecomandato è buttioso anche lui è qualcosa da fare esplodere? ehm no no adesso vado a controllare oh no sono i pacchi regalo telecomando in azione arrivano i regali i regali arrivano? sto venendo a vedere proprio l'elfo li porta prelevati scarico dei regali io voglio un regalo scarica qua grazie dieci e freglia capelli è uno dei nostri personaggi preferiti perché lei ordina tutte le cose e arrivano subito cose molto strane che le servono per le missioni chi vuole un pasticcino? io ovvio grazie Emma guarda quanti dolci sono un po' ferma lì non sono da mangiare undici chi abbiamo? apri? no ho capito quella dei pompieri sì sì trovata noi siamo nel laboratorio degli elfi dove stanno dipingendo un trenino giocattolo no c'è il mini pennellino sì è pucciosissimo brava Mati fai l'elfetta l'ho fatto io l'ho fatto io oh oh dinamite tripla aspetta che li sposto verso di te attento se esplodono guai non c'è pericolo in caso di incendio c'è l'autobompa bene ragazzi possiamo esplodere pronti? sì ma no avete già aperto il 12 sì siamo scattate sullo skate regalo di natale è super divertente ma non devi giocare devi farci il fiocco è così carino e qui il 12 cos'è? oh il treno niki perché c'è la ferrovia che corre tutto attorno alla città forza trenino no questa è la locomotiva è pucciosissima porto i regali noi li facciamo esplodere ma no arriva Emma ha già ricevuto lo suo regalo fortunata beh se vuoi ti regalo un solo pattino ecco il trenino ed ecco il 13 il 13 anche qua apriamo il 13 vai apri dolci ho sentito dolci qui invece abbiamo la banca da svaliggiare guarda che spettacolo di dolci e questa è la macchinetta sì per fare i waffle è vero ti metti lì quello mini waffle lego l'impasto schiacci e ti viene il waffle e poi con questi lo decori che buono questo è un calendario da mangiare ragazzi e adesso bisogna andare a vedere la banca c'è anche l'albero da rubare e al 14 dove al 14 cosa c'è da rubare rubo io rubo io cosa ho rubato non lo indovinarai mai ho visto le istruzioni cos'è un mega gippone no non capisco che cos'è sarò più fortunato da mate indovina questa è una molla un robot sì no no un un pinguino è un pinguino la molla e adesso torno di qua e indovino non indovino ma dai è semplicissimo Ale è semplicissimo è semplicissimo che cos'è non lo so uno spazzaneve un quad no l'ho detto anch'io no quello non l'ho detto ecco qua è la macchina dei ladri è vero siamo più grandi della banca yeah svaliggiarla sarà un gioco da ragazzi ce la portiamo proprio via vuoi vedere ma come fa è il segreto sono proprio le zampette che fanno un po' di gioco con il corpicino sono cuoricine adorabile 15 ci aspetta ah tu hai capito il camion della polizia sì io mi faccio come se l'auto e voi cosa avete trovato un altro del petto video doppio bene doppi regali torniamo alla centrale inseguiamo la polizia ti piace la sirena è bellissima la roba del Natale è la sirena dei ladri è stupenda forza cerchietto principessa numero 16 apriamolo allora cosa c'è c'è il tavolo con la carta per fare i pacchi bellissimo io volo in città dove c'è oh oh è Babbo Natale no è un ladro anzi una ladra è Daisy Kaboom Kaboom eccola qui credo che anche lei ami molto gli esplosivi come i nostri tronai amici guarda sono riuscita ad aggiungerla non ci credo adesso ha un suo spazio con le manette con una grande esplosione come va con la carta qua ragazze bene 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 no si può anche girare tipo oh scusate 17 è qui tra ladro e poliziotto cosa c'è vogliamo si indovini molto difficile no sai che io non riesco a indovinare una spada spaziale un mini aereo eh sì io questo anche ho su un gabbiano ma è un mini aereo ho visto l'elica è un mini aereo abbiamo trovato due pacchetti regalo ma ci sono anche i regali certo scendo a vedere i occhi chiudiamo chiudiamo sono carinissimi a terra a terra c'era anche la pista vabbè ma è troppo carino l'aereo riparte già riparte si va a prendere il 18 18 ragazzi manca una settimana natale no non 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 come non puoi dirmi grazie mati cioccolata calda e c'è anche il fuoco per scaldarla quasi mette dentro la cioccolata si frulla e poi viene fuori calda faccio un fatto in città 19 cosa abbiamo oh ma ti lancia palle di neve ricarica quelle palle di neve mi sembrano palle di panna si le trovo molto buone carica chi vuole un ananas a lanciare non ci credo dammi qua ananas è il mio frutto preferito non sei una scala asciutta ah non è vero grazie no sono rimasto senza ananas e al 20 troviamo è lui il pupazzo di neve io vado pazzo per il pupazzo tada ma fatemelo vedere ruote telaio ci sono hai trovato una macchina sì una macchina ma quale macchina la corsa no caro attrezzi no magico ananas dimmi di cosa si tratta se non lo sei tu risi e busy vi presentano il pupazzo di neve ma ciao risi e busy che bei nomi che avete risi e busy vi presentano il camion porta motoscafo ciao camion ma scusa qual è risi e qual è busy non lo so lo chiederemo a matti il motoscafo lo troveremo fra un po' 21 io non riesco mai a indovinare i tuoi forse ho capito questo è il traino cioè allora questa qua fa da motrice qua ci metti il traino no come quello 3 in 1 geni tada anche indovinare il volo la slitta sì sì è la motoslitta a proposito di motori ragazzi guardate che spettacolo ma si è caduto dall'alto neanche sì l'ha portato la slitta di babbo natale funziona veramente vedete il rimorchio guardate lo appoggiate lì lui avanza ma visto Ale che spettacolo no ma anche meraviglia vediamo cosa c'è nel 22 qualcosa da mettere sul camion un motoscafo avevi ragione e questa volta l'ho pure riconosciuto ora sveleremo il vero mistero del Natale Matilde ci dirà chi è risi e chi è busy allora questo è risi grazie questa è busy ma come fa a saperlo così bene a riconoscerli sono uguali moto slitta ragazzi chi sale sulla moto slitta a me io è pericoloso per voi due ma chi sale sul motoscafo ma bellissimo è proprio come un set lego solo in miniatura 22 che cos'è un'altra slitta è rimorchio Ale è vero con tanto di pacco regalo no un lego errore ecco perché risi e busy scappano cosa vuol dire un lego errore c'è un'altra cassetta della posta non ci credo però più cassette più letterine più regali ottima idea 23 l'antivicilia di Natale indovinerò no la mini slitta con la mini renna ecco l'albero ma è proprio così l'albero scusa oks sta inventando ma va bene lo stesso va bene così rebuild the world con la stellina mi raccomando ragazzi quando mettete la stellina sull'albero esprimete sempre un desiderio forza Elena corriamo verso Babbo Natale numero 24 manca proprio lui sì Babbo Natale esce e sai finire i busy vi presentano la signora natalizia ecco la signora natale senza testa con la testa in realtà lei è mamma di risi e busy rivelazione il gossip nataliziale e invece lei è la nonna ma un altro gossip volete sapere un altro gossip questo è il papà ha anche il sacco ma è senza regali Ale io sono stato buono quest'anno tu Matti sei stata buona sì tu Niki sì domanda del giorno qual è la sorpresina che avete preferito i prezzi i prezzi perché ti piacciono l'espruzza neve la catapulta sì Emma sì e poi il pinguino è carinissimo il pinguinetto e lo schermo a me anche i risi e busy anche a me risi e busy a te Niki quello che sto appena costruendo è molto bello è la casa di babbo natale con i pezzi avanzati ma che bella idea invece a me del tuo calendario è piaciuto un sacco il camion con rimorchio tre pezzi che si uniscono fra di loro bellissimo e se questo video vi è piaciuto mettete un pollicione proprio come quelli del gioco GBR che trovate nei migliori negozi di giochi e anche qui al link in descrizione iscrivetevi al canale YouTube GBR per non perdere i prossimi video e non travestitevi da signora Natale per sballeggiare la banca scaricate l'applicazione GBR per non perdervi le notifiche e sapere quando escono i nostri prossimi video ciao